10 appuntamenti da non perdere 10 appuntamenti da non perdere che cominciano con una nuova bohème dopo tanti anni il Regio mette in scena una nuova bohème grazie a un contributo straordinario perché è la prima volta che accade che degli amici del Regio regalano al nostro teatro l'allestimento di bohème quindi un allestimento completamente nuovo che sarà una grande sorpresa credo per tutti quanti e chiudiamo con un altro allestimento nuovo importante che è Macbeth io cito il primo e l'ultimo tutto quello che ci sta fra questi due allestimenti fra queste due produzioni credo che sarà il motivo per sorprendere ma attenzione, questo è quello che vedremo a Torino noi da quando chiudiamo questa stagione a quando riapriremo la stagione 17-18 faremo altri 5 titoli due a Savonlin, due a Edimburgo e uno a Muscat quindi l'attività del Regio sono 10 titoli un anno quindi credo il teatro più glocal che ci sia in Italia in questo momento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti